Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti se la prende con il governo e le autorità sanitarie italiane, specialmente il ministro Roberto Speranza. Secondo Bassetti è inutile parlare di convivenza col virus se poi in Italia resta la didattica a distanza e l'obbligo di mascherina all'aperto. E' tempo di eliminare lo stato di emergenza, dice. Lui lo conosciamo, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. All'agenzia di stampa ADN Kronosk spiega di aver trascorso ben due anni nella paura e nel rispetto delle restrizioni. Però è giunta l'ora di tornare a vivere una vita normale, come quella che conducevamo prima dell'arrivo di questo virus. Dice che è una scelta guidata dal buonsenso. Del resto, come vediamo in queste ultime settimane, sempre più paesi si stanno a mano a mano staccando dalla narrativa del covid stile due anni fa, tornando progressivamente e alcuni immediatamente alla normalità. E dice ma perché non dovrebbero farlo anche qua in Italia? Perché non dobbiamo farlo anche noi? Molti hanno deciso di convivere con il virus perché hanno vaccinato più persone possibile, hanno fatto le restrizioni. Adesso dicono quello che si doveva fare è stato fatto, riapriamo i paesi, togliamo tutti i vincoli e conviviamo con questo virus perché più di così non possiamo vaccinare. Quelli che si poteva convincere l'abbiamo convinti, gli altri non li abbiamo convinti. Bassetti dice io vorrei che si passasse alla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus è quello in cui lo si fa veramente. Però in realtà in Italia chi ha parlato di convivere con il virus? È stato lui Bassetti, qualche altro medico, forse uno del CTS, ma i politici che sono quelli che decidono, sono i decisori, realmente non ho sentito nessuno dire passiamo alla convivenza, neanche quelli più tipo Salvini che era quello in controtendenza, liberare gli italiani eccetera eccetera, le restrizioni, ormai è da settimane che non dice più mezza parola sulle restrizioni. Ormai si è pidinizzato anche lui e Forza Italia. E poi dice che un paese che ha una buona parte dei bambini delle scuole elementari in didattica a distanza per contatti con un compagno che aveva un raffreddore non sta convivendo con Covid. Non è molto chiara questa frase, sfido chiunque a decifrarla, ma se la prende anche con l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto spiegando che se per fare una passeggiata sul lungomare siamo ancora costretti a tenere questo dispositivo di protezione individuale ora significa che il paese non vuole ancora convivere col virus. È tempo dunque di eliminare lo stato di emergenza, dice, che teoricamente è stato prorogato sino al 31 marzo del 2022. Levare lo stato di emergenza servirà per cambiare la testa alle persone. Il pericolo, dice, oggi è la rassegnazione, il pessimismo che hanno e questo lo vedo ogni giorno. Pochi che viaggiano vanno al cinema e al teatro. L'Italia è depressa, non è tutto finito, ma dobbiamo uscire dall'emergenza, afferma Bassetti. Cosa fare dunque? Secondo il medico bisogna svoltare, fino alla DAD per quanto riguarda gli studenti, e tamponi solo chi è sintomatico. Vediamo che, dice poi anche il microbiologo Andrea Crisanti, che è intervenuto a un convegno del UER, si è espresso in modo contrario allo stato di emergenza e al Green Pass. Pur dicendosi a favore dell'obbligo vaccinale, Crisanti ha dichiarato che il Green Pass, che serve poco o nulla, è stato utilizzato in modo surrettizio per costringere gli italiani a immunizzarsi. E questo ve lo dicevo anche in un altro video, che in realtà il Green Pass non è mai stato uno strumento sanitario, è sempre stato uno strumento politico, del decisore politico, che lo ha utilizzato in modo surrettizio per costringere gli italiani a vaccinarsi. Quindi, caro Crisanti, non è il fatto, questa è una scoperta dell'acqua calda, perché realmente fin da subito il governo ha detto, attenzione, questo non è uno strumento sanitario, ma serve per convincere, diciamo così, a vaccinarsi più persone possibile. Quindi che Andrea Crisanti arriva il 2 febbraio del 2022 a dire, guardate che non è uno strumento sanitario, fa un po' ridere. Forse sono persone che seguono poco la politica, però poi vengono invitati a destra e sinistra e dicono delle cose che lasciano un po' sorpresi, se mi permettete il termine. E così, intanto, speriamo di esserci avviati verso la fine di questa pandemia. Io comunque vi ringrazio a tutti, perché sull'altro canale, il canale principale, abbiamo raggiunto 150 milioni di visualizzazioni, quasi 200 mila iscritti, in poco più di due anni, mentre su questo canale già le iscrizioni hanno superato le 12 mila persone e già si è superato anche i due milioni di visualizzazioni. Quindi anche Tele Italia Seconda Rete se la sta cavando egregiamente, anche se qua c'è un solo video di Politica al giorno e ogni tanto qualcuno di Fai da te. Bene, grazie a tutti nuovamente, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video di là su Tele Italia, perché questo è il primo e unico video della giornata, ci vediamo sull'altro canale e buon proseguimento a tutti. Grazie. E qui nella community poi non c'è scritto niente, perché non ho tempo di seguire qui nella community delle discussioni, dei sondaggi, però di là in Tele Italia trovate sondaggi a cui poter partecipare, ho proprio messo da poco un sondaggio interessante. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie.